Nascondino, animali, in miniatura, due case diverse dove nascondersi una per round, villette davanti alla spiaggia con un bellissimo faro e dimmi che cosa vuoi di più oggi fare? Ucciderti e vincere! No ma non ci si uccide nella scuola Trovarti allora, non ti devo far fuori se ti trovi Ha rovinato tutto, ha rovinato tutto Allora, a parte gli scherzi, al primo round siamo in questa villetta, al secondo round siamo in quest'altra villetta Sono diverse, sono diverse in tante cose, sia nella zona giardino, sia come sono, diciamo, arredate all'interno Quindi saranno completamente due round diversissimi tra loro Sto sbirciando E i round dureranno tre minuti, cara mia Quindi tre minuti per trovarti, tre minuti per trovarmi e poi ci spostiamo sull'altra casa Abbiamo gli animali, abbiamo il potere di diventare piccoli Non ho idea di che cosa ci sia, quindi chi si nasconde dovrà anche esplorare Quindi vai, ciao Steph Ecco, lo sapevo Non so neanch'io cosa c'è dentro le case, quindi preferisco cercare e avvantaggiarmi Lo sapevo Allora, giardinettino qua iniziale Allora, vado al faro così non ti vedo Ok, altro qua Ah, praticamente c'è tutto un giardino tutto collegato Ok Ok Descrivite Molto carino, una piscinetta privata, una zona barbecue, ok E qua finisce il giardino Dopodiché si può entrare dentro Vabbè ma c'ha la p... Questa è una villona Bella casa E c'ha una doppia piscina, una una jacuzzi e una una piscina che è un po' fuori, un po' dentro Casa Io sono salita sul faro Ok, qua c'è una camera dal letto Ok, allora devo iniziare a decidere dove cavolo nascondermi Perché qua mica... E anche in che cosa trasformarti Oggi è deciso Ah no, quello è vero, aspetta, quello lo decidiamo subito Eh, non è ancora deciso Facciamo così Ok Ci può stare Forse non posso, aspetta Stai litigando con qualche nascondiglio? Eh sì, assolutamente sì Non sempre se diventi piccolo vuol dire che ti puoi nascondere in quel determinato posto E ne sei felice, vero? Sì Occhio che non avrei tutta la giornata, Steph Grazie Decidi in fretta Non lo sapevo Perché io mi sto esplorando tutta l'isola Qua sono anche in acqua a vedere che c'è Cioè, nel frattempo faccio un botto di roba Non è convinto Vada pure Ok, alleluia Tre minuti? Giusto? Un attimino che ero in acqua, devo uscire Ma dai, ma potevi almeno... E non roppere! Parla, quello che ci ha messo, vinti minuti, sono a nascondere Guarda che ci ha messo un minuto Nessuno ti vuole sentire Avvio? Sì Pronta? Sì Let's go Allora, io voglio guardare prima dentro casa Ok Va bene Che c'è? Perché stai già muando Per mettermi ansia Per mettermi ansia? Beh, ma tre minuti passano in fretta, cara Tre minuti passano in fretta Belline queste piantine E poi, tu non hai pensata quanto è difficile avere due round Perché dovrei imparare per due volte le case Cioè, appena ti ambienti Eh, lo so, ma il bello è questo È problematico Cosa c'è che eri zitto? Cioè? Ero un attimino zitto No, perché io lì dove stavo provando a nascondermi Non potevo E quindi ho realizzato Che per colpa del fatto che l'ho già trasformato in animale Non riuscivo ad entrare lì dentro Però sono felice Perché altrimenti mi avessi trovato dopo 40 secondi Beh, perché quel nascondiglio l'ho fatto anch'io in un'altra casa Mi ricordo, cara Quindi comunque Mi ricordo Viene normale da controllare Nelle bottiglie, secondo te, ci puoi ficcare? Eh, non lo so Magari sì Magari no Forse no Anche nel forno non credo Vabbè, continuo a controllare Allora, qui ci sono già stata Qua Il tempo passa Ma come si vanno al piano di sopra? E ci sono le scale Eccole da qui Ma credo ci siano varie scale Sinceramente Non lo so Ho trovato solo questa Al momento Ok Eh, sì, credo che siano due punti diversi in cui puoi salire Ok Perché c'è una sorta di terrazzo e una sorta di camera da letto Ok Capito? È un posto strano Poi ci sono la doppia piscina Non trovo le scale per il terrazzo Quello Poi io le piscine non le ho ancora viste La scala per il terrazzo è da dentro, Fer Questa si perde Allora, questa è una piscina Un minuto e trenta Giusto Quella è una piscina Tu da lì sali ma quella lì è la camera da letto Esatto Per andare lì invece devi entrare di nuovo dentro casa Quella porta Poi giri a destra E quella è stata la scale Ma non sembrava neanche scale, Steph Va bene Va bene Cosa c'è? Conoscevi bene, troppo bene sta zona Quindi sì Perché io lo sai che imparo subito i posti A differenza tua Ma non ti trovo Eh, lo so Due minuti Ragazzi, riesco a stare nascosto Tre minuti Ho già un vantaggio enorme È già un vantaggio enorme Che c'è? Non lo so Non ti trovo È un attacco quello Ne sono anche felice Devo aggiungere Mancano 45 secondi Secondo me diversi posti Non li hai guardati così bene Devo essere sincero Ancora che insiste con le bottiglie Perché sei lì Ma probabilmente sei incastrata E non ti vedo Non sono incastrata da nessuna parte Non lo so, Steph Mi sembra di averla finita la casa Non è che sei dentro l'acquario? Mi sembra al pesce rosso Niente che l'ho visto l'acquario Però No Ok Eh, beh sì Tu la casa l'hai guardata tutta Il discorso è che Steph È nascosto talmente bene Che anche se hai guardato Non hai visto 15 secondi Maledetto E oggi secondo me possono dire Welcome back Steph Perché ho fatto proprio il livello Di nascondini Stai zitto Vecchio stile Tempo finito Dov'eri? Guarda il mio schermo Cavolo Ho provato anche a salirci Guarda che le ho guardate Non ti ho visto Perché quando tu eri nel terrazzo Guardami Stavo qua Quando tu eri nella camera da letto Invece facevo così E stavo qua Ah beh sì Ha senso Perché le ho viste anch'io Le ho controllate Non mi è sembrato Infatti l'avevo tenuto d'occhio Come è possibile Nascondiglio Bellino Lo so Grazie Ho fatto un ottimo lavoro Ok Fede veloce Che qua bisogna partire Inizia a deciderti il tuo nascondino Io vado subito fuori Cerca di essere veloce Perché qua dobbiamo fare Un'altra casa intera E sarà dura Posso andare? Vai Steph Ho fatto un pisolino nel mentre Eh lo so No non sono molto convinta Perché il fatto è che È davvero difficile Entrare in vari posti della casa Quindi devi pensare A dei nascondini Non convenzionali Fischi? Anche lì avevo pensato Però ho detto Sicuramente va a vedere E quindi ho rifatto tutto il giro Eh tu si che sei furba Eh già Tu si che sei furba Cosa c'è lì sotto? Lava Ah perché l'idromastaggio è con l'acqua calda Esatto Ci sta Ci sta Ok E qua non sembra che ci sia Nell'altra zona della piscina Non mi sembra che ci sia Poi non si può andare in acqua Steph ricorda Eh ma magari è lì qua sotto Cara Magari è lì qua sotto Ma niente Camera dal letto Camera dal letto Diventiamo piccolini Controlliamo qua in mezzo Controlliamo anche qua in mezzo E qua non c'è Sotto al letto Non c'è Perché altrimenti L'avrei già vista Non fa salire lì Sì Ah ci ho provato e non ci sono riuscita Vedi che non fa Ok 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 Tempo passa Camera dal letto Direi di no È passato un minuto di tre Ok Quindi mancano due minuti Non dovrei avere troppi problemi Perché ho quasi fatto tutta la casa Raga Ovviamente Quindi Steph mi troverà sicuramente subito No? L'agnentiamo Steph è il re del nascondino Sì sì Tu scherzi Io scherzo anche tanto Io oggi vinco Sì Cos'è questa insolenza? Che non vinci Perché? Perché tu sei così sicura di te Non sai neanche dove mi sono nascosta Non sai neanche cosa ho fatto Non sai neanche se mi hai già visto Perché magari mi sei passato vicino E non te ne sei accorto Impossibile no? Allora Dov'è la signorita? Vabbè neanche dentro la tv Steph Mi raccomando Controlla tutti i posti Sì sì Che brava Oh ma sto ridendo troppo Fer Io sì Mamma mia che ridere Lei mi vorrebbe far tornare A ricontrollare le cose Che ho già visto È chiaro questo Perché Lei ha paura Ha paura di essere trovata Ha paura Che Steph La trovi Volevo andare dietro le bottiglie Ma lo sai che non fa Sì È un peccato quello Continua a cercare di distrarmi Brava brava Sì 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 Manca ancora un minuto cara Eh lo so Lei è qua Lei è qua Allora Il mio stesso nascondiglio? No Ovviamente Ma che banalità Steph Per chi mi hai preso? Eh non si sa mai Eri disperata Ci hai messo 72 ore Perché Nella maggior parte Di posti che avevo pensato Non ci si poteva entrare Quindi ho dovuto improvvisare Questo era un buon nascondiglio Ok Ok Ma Di nuovo Stai controllando lì Steph È un'altra camera No hai già controllato sta camera No ero nell'altra Era in quella di lì Perché c'è un'altra camera Sì Dove Cioè questa non capisci Manca dove sta E a fortuna vince Fere Uno è lì E uno è qui Comunque tu stai qua dentro No non ci stavo Ci ho provato Era un bel tempo Steph La prima zona che hai controllato Mi sei passato vicino Proprio a fianco Non mi hai visto Cioè io stavo guardando il tuo schermo Io mi son vista benissimo E ho detto cavolo adesso mi ha visto E invece sei andato dritto Tipo lì dietro L'altro Vabbè Semmino muscola Cioè mi sei passato proprio a fianco Ho detto cavolo adesso mi vede Perché sono un puntino nero Nel mattone rosso Mi vede E non mi hai visto Dopo il primo posto in cui tu sei venuto Seconda casa Scappi eh Aspetta che devo tornare normale Non urlare seconda casa Così così Allora Questa volta parti tu a nasconderti Sì Ok Di nuovo quindi Se no ti è diversissima Sì Ok siamo qua E ti do Avrai due minuti invece che tre Ok Per cosa Per nascondermi No per essere Cioè io per cercare Esatto Per nasconderti Hai proprio venti secondi Vai Vola No non conosco la casa Vola Fede Vola No non posso volare Vola piccolo uccellino Eri tanto uno zubat Adesso vola Non sono un uccellino Eh dove vado Eri un pipistrello lurido Maledetta È bella quella casa Vero Secondo me è più bella La seconda della prima Vado Cioè In campagna Due minuti Fareci ne ho messo cinque A nascondersi Non ce la farò mai Non è vero Non dire le bugie Sì è proprio Totalmente vero No il fatto è che Toda la vita In tanti posti Non ci puoi andare D'animaletto Mui venito Non ci puoi trasformare Normale Poi ti devi trasformare In animaletto E ci fa venire l'ansia Finito Sì Spero sia un bel nascondiglio Lo spero Ogni tanto io ho sentito I rumorini Non è vero Dovresti essere un pipistrello No Sì Sono una mucca No no Tu sei un pipistrello Di quelli pure brutti Magari ce n'è uno Giro dentro casa E mi stai confondendo Con un pipistrello In una villa così bella Non ci sono pipistrelli Questo è quello che pensi tu Solo le ferretine Sono pipistrelli Questo è quello che pensi tu Allora Lei potrebbe essere Ma pare che mi dire Asta casa è un casino Lo so È molto più dispersiva Dell'altra Mi ci sono persa 20 volte Però Vabbè Ci sta Molto bella Molto bella E tanto arredamento Quindi tanti posticini Dove nascondersi Perché ci hai messo Cinque minuti Allora lo sei solo tu Perché io volevo Un preciso animale Quindi non Ciao Fere Dai era bellino Ma perché Vedi il mio nome Maledetto No ma ti ho proprio Cioè Ho proprio fatto così E ti ho vista Da qua non lo vedi Che da qua non lo vedo Guarda Non posso più uscire Però vedi No non ti guardo Guarda da qua non si vedeva Non mi interessa Fere è stata trovata Non mi interessa Quello che tu sei Quello che tu dici Perché sei una brutta persona Che non sta Sai che cosa fai tu Non fai divertire la gente Perché avrebbe fatto divertire Se non mi trovavi Anzi se non mi avessi trovato Se io fossi rimasta lì dietro Io ti avrei fatto Hai visto che bel nascondiglio E tu non mi hai visto E tutti avrebbero riso Invece a te non piace far diventare la gente Quindi finisce in questo modo Vai stai Sto dietro un'albero Nasconditi Secondo me Ha fatto molto più ridere alla gente Che il fatto che ti ha trovato No ma ha fatto ridere a nessuno Poi vedi tu Tu li senti ridere Io non li sento Io sì Perché nessuno sta ridendo Secondo me invece stanno ridendo Come Perché non nascondiglio perfetto E tu rovina tutto Non era perfetto Era perfetto Ma chi è che va a guardare dietro un televisore Steph Nessuno Appunto solo tu Per rovinare le partite Hai fatto? Sì vai Ok bravo Avvio Avvio Sento il rumore di un pollo No Beh è tutto bianco Ne ho approfittato Tu eri in nera E ti vedevo Perché mi serviva la tv La tv è nera Steph Ok Allora Steph in vantaggio Finalmente riuscite a trovare Avevo solo due minuti Sono stato bravissimo Se Ferre non mi trova Finalmente oggi Me la sono rivinta Era da tanto che non vincevo Quindi nel caso Sarei davvero 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 felice Belle queste billette Mi è piaciuta La doppia location Mi è piaciuta molto Nel terrazzo Sì Perché? Perché io non ci sono mai arrivata qua E quindi? E quindi l'apertato la porta Ah Ah Ok La dove sei? Che l'apertamento E ti cercavo No È vero? No L'hai aperta adesso Ok Maledetto Ti odio È il bello Che era pure concentrata Con il suo ragionamento Non ho visitato Tutta la casa Per trovarti No Ai 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 Allora Sei un pollo E sei nel bianco Perché hai detto Visto che è tutto bianco Ti ci sei abbinato Brava Ma oggi sto giocando Con Ferrenicchi O con Sherlock Holmes No perché Non fa ridere a nessuno Però stavi ridendo Tipo dico pure brutto Oh raga Oh sei molto brutto Ce l'ho costo nel 2018 Perché ti devo dire Sei molto brutto Ce l'abbiamo solo noi Sei molto brutto allo stesso Brutto ma che vinco No Quello è l'importante Non lo so stesso Dove sei finito? È nascosto Il lavandino Il lavandino è bianco No Io quest'oggi Sono stato alla larga Dalle decorazioni Ho deciso di sfruttare L'architettura Delle Diciamo Delle case Degli oggetti Delle location Per nascondermi Senza sfruttare Appunto la decorate Cioè stai controllando Le lampade La decocraft Imbecille Le decorate item Perché non è solo La decocraft Imbecille basta Allora Avevi ragione Ero nella terrazza Sono passati due minuti Però non ero Dove pensi tu E dove? E vai in giro Nella terrazza Prima o poi mi vedi Ah lì Vabbè ma con neanche C'è arrivavo Lì poi piccolo Parcurare E io ero qua Spero che tu muoia La morte lente Dolorosa Dolorosa Ok Dolorosa Basta No Pronta Non ti voglio Dato che ho vinto Riesco a fare parkour E a salire Su quella roba lì gialla Che roba gialla Quale? Ciao Ciao In ogni caso Ci fermiamo così Fateci sapere se vi piaciuto Questo nascondino Con doppia location Su due round diversi Qua sotto Compariamo altri video Lasciate tanti like Non vi è piaciuto E cosa? Non vi è piaciuto E ti vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao